signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale questa settimana vediamo un esercizio di war building molto semplice che però serve sia per i neofiti per cominciare a impattichirsi sia i master un attimo più esperti per cominciare a riflettere su alcuni concetti che approfondiremo poi più avanti questa stagione in altri video per quanto quello di cui parleremo questa settimana sia qualcosa di molto semplice basilare non è una di quelle cose che andando avanti con l'esperienza poi ci si lascia le spalle anzi io dopo più di 20 anni di gioco e qualcosa che continuo a fare ancora adesso ogni volta devo mettermi a preparare una nuova ambientazione su cui poi dovrò creare una quest ma non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere nel video di questa settimana perché bisogna domandarsi che cosa vedi in ogni singola quest che mastererete vi capiterà di dover dare delle descrizioni degli ambienti ai giocatori che siano i cunicoli delle fogne della città malfamata che sia la piazza del mercato del villaggio fantasy dove arrivano i mercanti elfi a commerciare che siano i giganteschi bacini di carenaggio dove ancorano le astronavi della flotta dell'impero spaziale queste descrizioni servono per dei motivi pratici all'interno del gioco permettono ai giocatori di sapere in che ambiente si stanno muovendo i loro personaggi e quindi poter prendere delle decisioni razionali e ponderate sulle azioni che vogliono far intraprendere i personaggi stessi il fatto però che appariranno sicuramente all'interno della quest le rende ottime anche per cominciare a inserire alcuni dettagli su quella che sarà l'ambientazione più in generale in maniera metodica e in momenti che sicuramente saranno presenti indipendentemente da quello che poi effettivamente succederà nella quest magari non appariranno esattamente nello stesso modo in cui avevate previsto dovessero accadere ma se gli avventurieri entrano nella città prima o poi passeranno alla piazza del mercato e difficilmente potranno atterrare con la loro astronave su un pianeta senza prima vedere quel pianeta dall'alto proprio per questo mentre progettate la quest ogni volta vi trovate di fronte un passaggio in cui siete sicuri che lì dovrà avvenire una descrizione ambientale fermatevi un attimo e fate questo esercizio cioè domandatevi che cosa state vedendo come ho detto per prima cosa pensate agli aspetti tecnici la maggior parte della quest si svolgerà all'interno del castello costruito sulla collina in mezzo alla città bene la prima cosa che descriverete ai giocatori sarà e quando arrivate in vista alla città in mezzo ad essa svetta il castello questa è la cosa su cui dovete far concentrare l'attenzione dei giocatori perché è il posto dove dovranno andare nella prossima cena della quest cominciamo quindi a utilizzare alcuni elementi per focalizzare lì l'attenzione il castello potrebbe avere delle bandiere colorate con magari sopra i simboli araldici della casata nobiliare di quella zona magari sono anche dei simboli che i giocatori hanno già visto già conoscono possono identificare con la loro abilità o quello che è diciamo inserite degli elementi che costringano i giocatori a dare attenzione a quel dettaglio questi sono gli aspetti tecnici principali che sono la prima cosa che dovete decidere e sistemare se la zona in cui sorge la città è soggetta a frequenti attacchi e razzie dei predoni degli umanoimi valvagi o quello che è probabilmente la città sarà fortificata avrà delle mura intorno più frequenti e pericolosi sono questi attacchi più alte e imponenti saranno le mura che la difendono aggiungendo un particolare del genere state fondamentalmente utilizzando la narrazione mimetica vi lascio qui il video se non ve lo ricordate per fornire un'informazione ai giocatori senza dirgli esplicitamente o fate attenzione questa è una zona dove girano i briganti pensate anche a quei particolari che magari non sono di fondamentale rilevanza per la quest ma danno senso al mondo che gli avventurieri vedono intorno a sé nel nostro caso se in quella valle sorge una città ci sarà un motivo sarà probabilmente lungo un fiume sarà vicino a qualche tipo di risorsa che gli abitanti della città sfruttano sarà lungo una via commerciale quindi è nata come stazione di sosta potreste descrivere ai giocatori mentre si avvicinano alla città che vedono carovane di mercanti che entrano e escono o gente che trasporta risorse queste sono anche informazioni che potete collegare a altre descrizioni che fate in altri momenti della quest per dare un senso di coerenza al mondo se avete descritto che in questa città arrivano carichi di minerali ferrosi per essere lavorati nelle fabbriche della città nella prossima città potrete descrivere che la città è vicino a una miniera e da lì partono carichi di minerali ferrosi per essere inviati all'altra città questa potrebbe essere un qualcosa che viene integrato nella storia i giocatori sono chiamati a scortare i carichi di minerali per non essere rubati dai briganti di cui parlavamo prima ma potrebbe essere semplicemente lasciato come elemento di sfondo che non ha direttamente rilevanza per la questa i giocatori però gli aiuta ad avere l'impressione che il mondo intorno a loro sia molto più vasto di quello che sembra e che non tutto quello che succede succede perché loro sono presenti tutti questi sono aspetti della funzionalità del mondo di gioco che vi conviene continuare a mantenere da una descrizione all'altra in modo che più la quest va avanti più il mondo di gioco appaia vivo e coerente ma ovviamente non è l'unica cosa a cui dovete pensare a questo punto la descrizione potrebbe anche fermarsi avete soddisfatto gli elementi tecnici principali avete inserito degli elementi che danno coerenza al mondo il grosso del lavoro è fatto ci sono però altri dettagli minori che servono per la verosimiglianza ne parleremo più approfonditamente poi in un video a parte probabilmente ma per adesso ricordatevi che la gente mangia se lì c'è una città probabilmente intorno ci saranno campi coltivati pescherecci lungo fiume cibo in arrivo in uscita dalla città evitate per favore quel classica situazione fantasy in cui c'è il villaggio degli elfi in mezzo all'antica foresta che dato che è palesemente privo di agricoltura e industria si dà per scontato gli abitanti si mangino le pigne potreste anche decidere di inserire altri particolari minori magari non rilevanti per la quest ma che diano colore la l'architettura delle case come fatta le case hanno il tetto piatto il tetto a punta il tetto di paglia il tetto in lavagna sono aspetti che molto probabilmente non non entreranno mai realmente in quest i giocatori devono combattere gli orchi all'interno di una casa se il tetto è di legno e di paglia non è che cambia così tanto a meno che non si mettono a dar fuoco alla casa in cui loro stessi stanno combattendo cosa che gli avventurieri comunque tendono a fare potreste concentrarvi sui vestiti delle persone sullo stile delle insegne sulle decorazioni che vedete in realtà sono molti dettagli ognuno singolarmente irrilevante ma che messi tutti assieme danno l'impressione di star guardando una scena di vita reale nella vita reale voi non andate al mercato e vedete dei mercanti probabilmente la vostra attenzione sarà attirata da un particolare banco con dei vestiti sgargianti un banchetto che vende caramelle che hanno un odore molto intenso la gente che va e viene quindi non riuscite a vedere queste sono le sensazioni che dovreste trasmettere ai giocatori tramite le descrizioni quando andate a cercare di stabilire un'ambientazione naturalmente non dovete dare tutte queste informazioni necessariamente assieme alla prima volta che i giocatori arrivano in una nuova zona o vedono un nuovo ambiente anche perché probabilmente la descrizione comincerebbe diventare troppo lunga e farebbe perdere di mordente il gioco però l'immagine mentale nel nostro caso di questa città con le sue carovane i suoi tetti e il suo castello dovrebbe essere molto chiara nella vostra testa in modo che tutte le descrizioni chiederete ai giocatori man mano che si spostano avvicinandosi alla città girando da una parte all'altra della città voi possiate di volta in volta aggiungere sempre più particolari non necessariamente tecnici fino a quando durante tutto il corso dell'avventura avrete dato una descrizione totale di quella che è la scena nella città e quindi potrete poi cominciare a lavorare su questa per le scene che vedranno nelle altre avventure diciamo che per questo video è tutto sta già cominciando a durare troppo adesso però mi piacerebbe sapere da voi come fate a organizzare le vostre descrizioni se usate questo metro se ne usate un altro quale utilizzate ve le tenete in testa ve le scrivete usate delle immagini scrivetemi tutto nei commenti come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividete che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche io sono il master cae noi ci vediamo nel prossimo video